E' sulla scia della settimana sociale di Trieste che si pone il confronto tra candidati per la presidenza della regione Liguria, promosso dal percorso di formazione politica dell'Arcidiocesi di Genova. Il tema della democrazia e della partecipazione necessita di una informazione attente e puntuale, che aiuti nell'esercizio del voto. La Chiesa si è posta a un grande tema di confronto e di pensiero soprattutto, che è quello della democrazia, che si alimenta proprio della partecipazione di tutti i cittadini, a prescindere che siano cattolici o no. Purtroppo anche nelle ultime tornate elettorali noi abbiamo visto come ci sia stato un decremento della partecipazione al voto, sempre più spiccato, tanto che ora quasi più del 50% non partecipa alle tornate elettorali. Tutti e nove i candidati sono stati invitati al confronto che sarà ospitato nella sala Quadrivium. Questo confronto risponderanno a delle domande che noi invieremo preventivamente perché ci interessa proprio una risposta ponderata, pensata. Non potranno interloquire tra di loro, quindi ci sarà la possibilità di ascoltarli serenamente per che poi ciascuno possa fare le proprie valutazioni. Al termine ciascun candidato avrà un minuto di tempo in cui esporre liberamente un argomento di suo gradimento. L'obiettivo è stimolare l'attenzione di tutti i cittadini invitati a partecipare, ad ascoltare per poi esprimere il proprio voto. Andare a votare significa anche preservare il futuro dei propri giovani, perché la politica si alimenta appunto della partecipazione di tutti. Nel momento in cui non c'è questa partecipazione mettiamo addirittura a rischio anche il futuro dei nostri ragazzi. Quindi credo sia una grande responsabilità che ci dobbiamo prendere.